Francesco Giacoverli, partiamo da mercoledì, una vittoria importante anche se tevi già vinto questa Coppa. Sì, sì, era importante andare avanti in tutti e due fronti, sia in campionato che in Coppa Italia, perché comunque noi puntiamo a tutte e due, siamo andati lì sapendo che comunque loro, una cittadina, ci puntavano molto a vincere questa Coppa Toscana e abbiamo, con l'appiglio giusto, siamo riusciti a portarci a casa anche questa vittoria e oggi abbiamo avuto il terzo incontro in una settimana e siamo riusciti a vincere anche questo in un campo difficile, con una squadra abbastanza motivata, soprattutto per la loro posizione in campionato e siamo invece riusciti a portarla via e bene, bene così. Ecco, voi che siete i giovani, ovvero le quote di questa squadra, sugli esterni siete in quattro, il mister vi fa ruotare, voi dovete farvi trovare sempre pronti e concentrati quando il mister vi chiama. Sì, giustamente, siamo quattro terzini miei coetanei e tutti e quattro abbiamo caratteristiche simili, chi più offensivo e chi più difensivo, l'importante è che quando il mister ci chiama in campo bisogna farci trovare pronti per dare una mano a questa squadra. Il Petra Santa più nove servirà ancora più concentrazione nelle prossime partite. Sì, sì, sicuramente, non bisogna mollare niente, anche se siamo a più nove bisogna pensare solo a vincere perché siamo la squadra che può fare solo quello, se ci mettiamo il nostro ce la facciamo sicuramente.